Spinosa, deprimente, irrisolta, praticamente eterna. La questione degli impianti sportivi lenaia di Di Pescara resta una questione, visto che all'asta del 27 luglio non si è fatto avanti nessuno intenzionato ad assumerne la gestione. Ci si riproverà il 18 settembre quando il bando tornerà su piazza, nella speranza che susciti l'interesse di qualcuno. E' stato rinviato il bando al 18 settembre. Siamo molto preoccupati perché ci sono dipendenti che non vengono pagati da quattro mesi, ma soprattutto si rincorrono da giorni i voci che la pretuziana, cioè quelle associazioni che in questo momento gestisce lenaia di, da un momento all'altro potrebbe abbandonare l'impianto. Tenete conto che non ha più corrente, non ha più gas, va avanti con un generatore approfittando anche di queste giornate estive e comunque l'affidamento scadrebbe il 31 di agosto. Rinviare al 18 settembre significa materialmente determinare la chiusura delle naiedi, cosa che noi non vogliamo assolutamente sia per i dipendenti sia per l'utenza, sia perché il mese di settembre è il mese in cui si fanno gli abbonamenti per il nuovo anno e perché ricominciano anche gli allenamenti della squadra di pallannuoto. Noi quindi chiediamo che si verifichi la possibilità di affidare direttamente l'impianto all'università, cioè a un soggetto pubblico che in questi giorni ha eseguito anche dei sopralluoghi pur non presentando domande di partecipazione al bando, ma soprattutto chiediamo che si faccia in modo che le naiedi non chiudano. Grazie. 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 Grazie.